e adesso dove andiamo con l'amore andiamo a vedere come viene considerato solitamente l'amore nei suoi aspetti più ordinari l'amore pensiamo alle canzoni alle poesie non posso vivere senza di te io e te tre come tre passi sopra il cielo piuttosto che sei tutta la mia vita e via di seguito stiamo parlando l'amore romantico che appunto tutti quanti lo viene considerato e definito amore ma in realtà è solo come direbbe young innamoramento una proiezione dell'animo su dell'anima sull'altro poi quando si ritira la proiezione arriva la delusione quindi l'amore condizionato dalle nostre mancanze dai nostri desideri se noi non siamo in contatto con noi stessi e non riconosciamo la vera natura dell'amore quello che facciamo e amiamo ciò che ci manca ciò che ha fine ma ciò che ci dà delle cose che in una certa misura è ovvio è un umano ma limitarci a questo scambiare questo per amore o rimanere vincolati nel comportamento dalla dipendenza dall'altro è evidente che non è il vero amore è evidente che tutto ciò che è bisogno tutto ciò che è romanticismo inteso come a come mi manchi a come ti desidero a no sei tutta la mia vita tutto questo è ammantato da amore ma è semplicemente bisogno è semplicemente carenza e quindi in realtà anche se ci fa vivere delle situazioni magari certamente piacevoli in realtà ci toglie energie non ce ne dà in realtà non ci fa bene ma ci fa male ora questo non significa che non siamo desiderosi di stare con la persona amata che non abbiamo tra virgolette paura di perderla e che ci sentiamo meglio quando siamo insieme e che vogliamo sempre stare insieme ma questo è ovviamente un male naturale quello che stiamo dicendo è che se è questo che ti guida allora sei prigioniero del bisogno così come lo stesso vale per la paura di essere lasciato nessuno mette in dubbio che se tu ami una persona temi che questa persona un giorno possa andarsene ma essere guidati dalla paura di perdere la persona questo non è amore essere guidati dal bisogno che hai per quella persona non è amore essere guidato da quello che ti dà non è amore quante persone dicono ma non ho ricevuto amore nella mia vita sì certo questo è sono i tuoi sono i nostri traumi originari con i quali sogniamo la vita continuiamo a sognare una vita di carenze di mancanza quando la medicina è l'amore ma la medicina non è l'amore che ricevi se tu credi che la medicina sia l'amore che devi ricevere che il mondo non ti dà perché così cattivo ingiusto continuerai a persistere la tua carenza nella tua mancanza l'amore sgorga lo dicevamo le volte scorse l'amore luce l'amore come l'acqua l'amore sgorga come il profumo di un fiore quindi ciò che ti fa bene che ci fa bene l'amore che riusciamo a sentire a provare per l'altro e via via sempre di più evolvendo per gli altri per il prossimo e anche per il lontano e per l'umanità tutta quell'amore compassionevole incondizionato come la madre terra ci insegna è ovvio che raggiungere l'amore con la nostra condizionata è una meta ma se noi pensiamo che non raggiungeremo mai oppure se noi sappiamo delle vie distorte di amore legate appunto alla dipendenza la paura il bisogno è ovvidente che non raggiungeremo mai la vera natura dell'amore viceversa se noi ci accorgiamo di qual è la vera natura dell'amore che è incondizionata che sgorga allora ci mettiamo sul cammino per cercare di curarci da tutte le nostre ferite mancanze traumi che ci allontanano dall'amore quindi se ti sembra di non aver ricevuto amore semplicemente perché sei lontano dall'amore non stai riconoscendo la medicina giusta l'opportunità che la vita ti dà in ogni momento per guarirti perché siamo circondati e immersi da amore incondizionato a partire da la madre terra sotto di noi a partire dalla luce del sole di ogni giorno a partire dal soffio del respiro che ci abita e via di seguito siamo totalmente sempre immersi nell'amore liberarci dal passato dai traumi dai sogni che sogniamo vuol dire rivederlo e imparare dall'amore avere l'amore come maestro e purificarci cleaning up purificarci a poco poco senza seguire la tentazione del bisogno la tentazione della poi di perdere la persona la tentazione dell'attaccamento ma seguire lo sgorgare l'apertura famosa del cuore che non è il cuore sentimentale l'apertura del cuore vuol dire lasciare emanare la nostra vera natura anche di questi tempi avere compassione per tutta la follia che vediamo intorno è una grande prova per imparare cosa significa per imparare la vera natura dell'amore che è incondizionato che sgorga che va oltre il giudizio abbiamo i giudizi ma l'amore va oltre abbiamo le paure ma l'amore va oltre abbiamo gli attaccamenti ma l'amore va oltre abbiamo le nostre idee ma l'amore va oltre e parte semplicemente da noi parte semplicemente dal risveglio riconoscere qual è la vera natura dell'amore e metterci sulla strada accettando i nostri limiti accettando che non siamo magari ancora in grado ma umilmente camminare lungo la via sapendo qual è il cammino da compiere riconoscendo la vera natura dell'amore